Giovane esemplare di lupo intrappolato in un laccio metallico è stato salvato e rimesso in libertà nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni. Maschio di circa due anni era stato trovato dai carabinieri del parco intrappolato in un laccio metallico messo lì probabilmente da bracconieri. Era stato trasportato tramite i servizi veterinari dell'ASL Salerno al Centro Recuperi Animali Selvatici Federico II presso il Presidio Veterinario dell'ASL Napoli 1 Centro dove era arrivato stremato in stato di sciocca a causa della lunga condizione di immobilità forzata con ferite lacero contuse causate dallo sforzo fatto nel tentativo di liberarsi. Ha ricevuto cure medico-veterinarie specialistiche che gli hanno permesso il completo recupero clinico e dopo un lungo impegnativo percorso riabilitativo e dovuti approfondimenti diagnostici incluse indagini genetiche che hanno confermato l'appartenenza alla popolazione selvatica il lupo ha ripreso a correre sulle sue zampe ritrovando la libertà. Sta bene infatti e nei giorni scorsi è stato rilasciato in natura nell'area del Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano e Alburni. Il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici dove il giovane lupo è stato curato, è stato istituito in campagna nel 2010. Lo scopo del centro è reintrodurre in natura la fauna selvatica qualora ne sussistano le condizioni a seguito del ricovero, della cura con prestazioni assistenziali di elevata specialità e della riabilitazione. Fondamentale è il suo ruolo di monitoraggio del territorio in quanto la fauna rappresenta un ottimo bioindicatore in grado di fornire rilevanti informazioni sulle condizioni sanitarie dell'ambiente in cui vivono gli animali.